Il ricorso di Forza Italia resta il fulcro del dibattito politico cittadino. Adesso resta da capire se la contestazione promossa dai cinque consiglieri azzurri possa essere sottoscritta anche dai due consiglieri del gruppo Basile di Progetto Ecireale. Rito greco, così come era apparso ai nostri microfoni sabato scorso, si mostra disponibile, ma solo se gli amici di Forza Italia me lo chiedessero, precisa Greco, contattato telefonicamente. Per ragioni di coerenza, visto che nel 2001 in circostanze analoghe fui uno dei promotori del ricorso, spiega Greco. Più prudente invece il capogruppo del gruppo misto, Orazio Fazio, eletto anche lui nel Progetto Ecireale di Basile. Ne discuteremo all'interno del gruppo, dichiara il neoconsigliere. Greco e Fazio non si sbottonano neanche sulla possibilità che Progetto Ecireale possa sganciarsi dal gruppo misto e formare un proprio gruppo consigliare autonomo, qualora riuscissero ad aggregare un terzo esponente. Si starebbe lavorando su in ipotesi che vedrebbe sganciarsi da Forza Italia Milli Grasso verso Progetto Ecireale. Sarebbe solo una mossa tattica perché la Grasso rimarrebbe politicamente organica al partito di Forza Italia. Ancora però siamo solo nel campo delle ipotesi e non c'è nulla di certo. Come non c'è nulla di certo in merito alla data della prossima seduta di Consiglio Comunale. Se arrivassero sul tavolo della Presidenza le delibere su tasi e tari, si potrebbe addirittura convocare una seduta urgente in via straordinaria per giovedì 31 luglio. Grazie a tutti.